Direttore, cosa proponi questa settimana in edicola ai tuoi lettori? Questa settimana abbiamo inteso dare la copertina, la prima, alla Serie D, che propone questa settimana due derby interessantissimi, quello fra Tamai e Pordenone e fra Crass e San Vitesse, servizi ampiamente trattati poi all'interno in terza pagina. Oltre a questo un inserto sull'Udinese, un inserto che contiene le figurine, per così dire, di tutti i giocatori della Rosa, con i rispettivi curriculum, oltre al calendario della Serie A, a curiosità ed altre notizie. Per quanto riguarda il basket, il tecnico Luigi Colosetti analizza per noi i campionati regionali d'eccellenza e nell'anno del 19, purtroppo, c'è la rinuncia del Pordenone e solo Trieste parteciperà a questa prestigiosa rassegna giovanile. Negli altri sport, un'interessante intervista con Valentina Peloi, la pugile udinese, che dopo la maternità, la bambina avuta da un altro pugile, Emanuele De Profetis, è rimasta fuori dal ring da un anno ed è rientrata alla grande a Manzano, battendo la vice campionessa europea, una pugile ungherese. Quindi tanti argomenti, come al solito, che abbiamo cercato di sviscerare andando dietro le quinte.